MotoGP, Ducati, Stoner torna in pista! Ma sono solo test Dopo qualche mese di stop, Casei Stoner è tornato alla guida di una Ducati, durante la prima giornata di testa a Valencia. Il due volte campione del mondo, infatti, si è presentato ai test privati che la Ducati ha organizzato sul circuito Riccardo Tormo di Valencia, dove la Desmo girerà a tre giorni, con laustraliano che, dopo aver girato nella giornata di apertura, tornerà in pista nellultima giornata, il mercoledì. . Dopo aver saltato alcune sessioni, il campione del mondo 2007 farà compagnia a Michele Pirro, che giunge in Spagna dopo la bellissima prestazione del GP di Misano, dove ha chiuso 5 grado. . Per Stoner, questa sessione di test sarà la terza uscita stagionale, dopo quelle dei test prestagionali di Sepandi e l'uscita in un altro test privato andato in scena a Barcellona. . In pista, oltre a Ducati, scenderanno anche Aprilia e Mark VDS, che proveranno delle nuove componenti da introdurre nei prossimi GP. . Intanto, la Ducati sfrutterà questi test per aggiornare la Desmo 16 in vista della volata finale, dove Andrea Dovizioso dovrà fronteggiare Mark Marquez in un mondiale equilibrato come non mai. . In questo fine settimana, poi, ad attendere i centauri del moto mondiale ci sarà l'insidioso circuito di Aragon, Mark VDS potrebbe provare una minifuga, Dovizioso dovrà cercare di limitare lo spagnolo. . 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